Sapete quant'è che le leggi sono tantissime? Quando lo Stato è corrottissimo. Ebbene sì, signori e signori, buona saga a tutti, che aforisma della settimana. Sono veramente euforico, come dicevo una volta un tizio su YouTube, perché due cose vi avevo detto. Benvenuti al videocammento capitolo 1997, sull'abbrinca uno pezzo di strike già. Due cose avevo detto. La prima è che dopo la saga del Ghekokujo avremmo avuto una saga dove Oda ci avrebbe sicuramente concesso di parlare di politica, tanta politica, nel bene o nel male, e probabilmente mi sarei anche dovuto un po' esporre, sei di destra, sei di sinistra, questa roba così. L'altra cosa che avevo detto è che secondo me questo volume 108, qui andava a sensazione, secondo me sarebbe stato un volume bellissimo. Magari non per forza per motivi romantici o toccanti, però comunque mi aspettavo veramente un volume che andasse verso grandi, grandi, grandi emozioni. E mi pare che più o meno così è stato, con qualche sorpresina, però in fondo è un capitolo particolare. Come particolare ad esempio la cover di questo 1097, perché, cosa rarissima, ci ritroviamo nella cover a richiesta. Sembra quasi come se Oda non potesse, poverino, cioè gli arrivano per coincidenza queste richieste e lui è sottomeso ed è costretto a fare... Capito? Cioè non è che c'è l'idea che in realtà queste richieste le sceglie lui, o addirittura secondo me se le inventa lui in alcuni casi. Comunque abbiamo esattamente i personaggi che ci saremmo trovati all'interno del capitolo stesso, dove cosa fa Kuma va a pesca. Chi è che veniva chiamato una volta pescatore di uomini? Come si chiamava? Non lo so, un certo Gesù Cristo, credo. Comunque andiamo avanti, bella cover, bella cover. Parleremo quindi di questa prima fase del capitolo, che ci presenta un attimino Padre Kuma, Padre Kuma da sorbetto praticamente. Dopodiché, dopo ho parlato di Kuma, si va a parlare di questa situazione politica. Io spero di non rompervi le balle, però più o meno bisogna parlare anche di queste cose, perché sono parte integrante del volume, dopodiché lo so. Bisogna parlare di Dragone, di questo suo passato confermato finalmente in Marina, per non parlare poi ovviamente di tutte le gigantesche teorie che già stanno volando su Bonny e chi è, chi non è Ginny e quindi Ginny, Bonny, Conny, chi sono? Allora vabbè, parliamo un po' tutto di questo, anche se già vi anticipo l'angolo della posta è stato bombardato da Bonny e Ginny, Conny, Cunny, Canne, eccetera, eccetera. Quindi di questo, veramente c'è tanta roba da dire. Ovviamente partiamo a bomba, però prima con l'analisi tecnica del capitolo. E allora, signori cari, siamo al nono capitolo del 108, quindi dal prossimo ogni capitolo potrebbe essere quello del botto finale. Prepariamoci, perché veramente mancano giusto due capitoli, secondo me massimo, alla fine del volume 108, con il 107, con il 1097, che parte in questa maniera qui. Vengono praticamente ripresentati i personaggi, in mezzo a 10.000 balun di dialogo, anche questo capitolo come precedente è ricco di dialoghi, abbiamo Kuma che viene ripresentato piuttosto giovane. A me quello che è piaciuto molto è il modo in cui viene anticipata la pagina 2 con questi piedi di Ginny che arrivano in scena. Mettiamo un asterisco sul discorso piedi che entrano in scena, perché poi, come sapete, nell'ultima pagina riprenderemo questo. Pagina 2 viene ripresentata anche Ginny, veramente molto carina e grandicella, molto apprezzabile, anche il dettaglio della chiesa in basso, proprio perché Oda prepotentemente ci ricorda questa cosa della chiesa. Poi andiamo alla terza pagina. Questa è stata molto narrativa, molto discorsiva, questa qui, dove viene praticamente presentato il re di Sorbet. E quello che mi è piaciuto molto è il dettaglio dei due volti del re. Vediamoli bene qui in ingranditi. In alto il volto del re quando praticamente fa il tiranno con i deboli e sotto invece quando fa il lecchino con i potenti. C'è tanta filosofia del marcio in sole con queste due vignette messe così vicine nella pagina 3. E poi la quarta. E vabbè, che ve lo dico a fare la quarta. Qui abbiamo la sorpresona del potere di Kuma. Questa pagina è una poesia praticamente. Da un lato certamente c'è il richiamo al sacrificio di Zora Trillerbark, ma poi i concetti cristiani del farsi carico. La povera Ginny a centro pagina che abbraccia i tre volti di Kuma. Il volto sofferente, il volto distrutto, il volto che si sta riprendendo sotto. È veramente gigantesca questa pagina qui. E poi la quinta. La quinta, come vi dicevo anche in live, offre nella fascia centrale un quadretto meraviglioso. Cioè ci sono le due immagini come fossero due belle fotografie lì a sinistra dei due volti di Kuma e Ginny. Ma poi bellissimo anche questo scorcio di noi spettatori che stiamo spiando all'interno della chiesa dalle finestre del... Bah, che roba! Cioè queste proprio sembrano praticamente di stare in una soppopera, roba così. Dopodiché ovviamente la pagina 6. E qui praticamente è molto ibrida, perché vedete ricca di dialoghi, ricca di situazioni dove anche Ginny non accetta il rifiuto della proposta di matrimonio da parte di Kuma. Poi dopo sappiamo anche il perché. E come si comporta Ginny? E la ragazza capricciosa che lancia una roba a Kuma e poi dopo lo chiama stupido. Mi ha ricordato varie situazioni. Ad esempio quando Sakura, dopo che Naruto ha sconfitto Pain, prima lo colpisce e poi l'abbraccia, no? Questa sorta di amore, odio, prima ti meno e poi ti abbraccio. Queste situazioni così. Poi comunque vabbè, andiamo avanti. Qui abbiamo una pagina veramente enorme, perché c'è il grande momento in cui si sconvolge la quiete di Sorbet. Prima in alto noi... Quello che mi è piaciuto di questa pagina è come è stata gestita il tempo, la regia. Perché prima noi vediamo una situazione e diciamo, ma cos'è accaduto? Poi dopo in fascia centrale iniziamo più o meno a capire cosa sta accadendo e poi inizia praticamente la spiegazione che è il re che ha fatto questa nuova legge. Questa cosa è molto interessante. Nella pagina dopo ci ritroviamo Giacuma praticamente in prigione e mi piace molto come le sbarre della prigione simmetricamente vadano in linea con la vignetta che chiude sulla destra. Veramente bellissima anche la seconda pagina. E poi vabbè, qui c'è la doppia. Diciamo che qui... Una seconda volta viene ripresentato Drago in un'ombra che a me onestamente mi sembra G-back quasi. Non per fare teorie, è solo una questione ovviamente stilistica. Ed è bellissimo come Drago. Da lì abbraccia praticamente l'intera pagina. E ovviamente c'è la gigantesca vignetta lì finale con tutti quanti. Ma a me è piaciuta quella vignetta lì. Quella centrale in alto. Una vignetta completamente vuota. Di buio. Così, messa lì per caso. Cioè sono questi dettagli che a me a volte mi fanno impazzire. Comunque, bellissimi i due sguardi di Kuma e Ginny che parlano. Uno che guarda in alto, Ginny che guarda verso Kuma. Questi sono quei piccoli dettagli che mi fanno impazzire. Poi non ho capito esattamente cosa Kuma abbia nel naso. Però ci sta bene tantissimo. Dopodiché abbiamo le scene di battaglia, scene di viaggio, scene di pranzo. Incredibile come Oda riesca a riassumere anni e anni di esperienze di Kuma all'interno dei rivoluzionari. In tre vignette. Cioè ci fa capire che i due stanno viaggiando, vanno avanti e indietro. Dialogano. E poi c'è anche il ritorno a Sorbet da parte di Kuma con uno bello skip di otto anni in avanti. E poi qui abbiamo praticamente già la vignetta finale. Abbiamo Ginny che viene ri-ri-ri presentata a fine capitolo. Adesso è molto più bella, molto più grande. E poi soprattutto questo piede. Ricordate l'asterisco messo all'inizio, no? Il discorso, quello lì, di come Ginny viene presentata a pagina 1 per poi vederla a pagina 2. E qui abbiamo dei piedi ancora una volta che compaiono in scena. Ma di chi sono? Qui rimane il mistero. Comunque io direi, con bellissimo capitolo, in stile pieno One Piece per la bellezza del contenuto, per le scelte di regia, per i dettagli. E poi c'è anche la regola ferrea che più il tempo passa e più crescono. E questa cosa è molto One Piece ed è il motivo principale per cui io seguo One Piece. Sigla! Cioè che poi è il motivo principale per cui io seguo One Piece. Voi pervertiti, no? Ammettetelo. Comunque, vai. Detto questo... Ah, guarda che bello il griskin tutto storto. Allora, detto questo, parliamo di come Kuma viene presentato all'inizio. Praticamente questo capitolo si chiama Le avventure di padre Kuma di Sorbet. Noi abbiamo questo personaggio che praticamente, senza voler essere blasfemi, ma cita in tantissime situazioni il Cristo. Ora, per tante cose, a parte la Chiesa, la guarigione, il sacrificio, la sua enorme bontà, la sua sofferenza. Ed è un personaggio che, se veramente fosse questo, attenzione, significherebbe che la sua morte poi inizia una nuova era. Cioè, teoricamente, non so fino a che punto si possa spingere Oda con Kuma. Comunque, la guarigione... Questi riferimenti sono delle coincidenze? No, onestamente. È un po' troppo per dire che sono proprio delle casuali coincidenze. Un riferimento diretto? Beh, comunque ricordiamoci che il cristianissimo non è la religione occidentale o mesopotamica, perché il cristianissimo è la religione mondiale. Nel bene o nel male è una religione che si è diffusa ovunque, in Africa e anche in Giappone. Quindi, ricordiamoci, ad esempio, due manga, cioè due situazioni, un manga che cita chiaramente un personaggio del Cristo, che è Toki, il fratello di Okuto. Vabbè, stiamo sempre lì parlando di Ken, però effettivamente si vedeva proprio come Toki fosse ispirato al personaggio di Gesù. Anche lui, purtroppo, costretto a lasciarci prima del tempo. E poi anche un'altra situazione, come in Giappone, il cristianesimo si era diffuso veramente a macchia d'olio. Al punto che, sicuramente sapete, durante l'era Tokugawa il caro shogun era stato costretto praticamente ad impedire ai daimyo che accettavano il cristianesimo di poter continuare a gestire le loro terre come signori. E un modo per capire se loro erano veramente cristiano o meno era il calpestamento del volto della Madonna, di Cristo, eccetera. Si chiamava yefumi questa pratica, appunto il calpestamento del volto sacro. Prova dimostrazione come il cristianesimo è stato prepotente anche nella storia del Giappone. Dopodiché, andiamo avanti e ritorniamo al capitolo, parliamo di Ginny. C'è tanto da dire su di lei, fermiamoci sulla prima parte di Ginny. Innanzitutto a me è piaciuto tanto, durante la lettura, poter vedere una Ginny che in un primo momento avevo detto ma questa sembra Nami, che ha attaccato ai soldi. Come dire, Kuma è una sorta di fenomeno da baraccone che può curare le persone, e beh ma perché mai farlo a gratis? E invece lei stava semplicemente proteggendo Kuma. Anche qui, poi una riflessione che è venuta dopo sulla figura della donna in molte opere di One Piece, in molte situazioni, in molte saghe di One Piece, scusate. Perché ad esempio Nami, è vero, lei è attaccata ai soldi, eccetera, però ad esempio Awano Kuni era stata disposta a morire, no? Mentre Ulti la stava sconfiggendo, pur di non ammettere che Rufi non sarebbe mai diventato re dei pirati. Quindi anche la cattivissima Nami ha comunque un lato sensibile, pronta soprattutto al sacrificio, per non parlare della madre di Sanji, che alla fine è un'altra poverina che si è sacrificata per i figli con un marito così. Quindi si mantiene questa immagine della donna, ovviamente escludendo donne come Big Mom, che vabbè, lì poi sono cattive e basta, ma questa è un'altra storia. Dopodiché, bellissimo come anche Ginny si prende cura di Kuma, come dire, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, ecco perché io non sono un grande uomo evidentemente, perché purtroppo, vabbè, queste sono le mie considerazioni. Comunque, si arriva anche a questo discorso. La trama la gestisce Oda, è lui che decide come i poteri del frutto del diavolo interagisce, cioè Oda detta lui le sue stesse leggi. Ha deciso, per il personaggio di Kuma, di fare in modo che tutta la sofferenza che riesce ad estrarre da un corpo, se non viene assorbita da qualcuno, ritorna al legittimo proprietario. Questo ci fa capire due cose. La prima è che Kuma è obbligato a assorbire quel dolore, altrimenti chi se lo cuccava non andava bene, e quindi è proprio costretto a farlo, non perché lui vuole fare l'eroe, ma proprio perché altrimenti in quella maniera sarebbe un problema, anche perché lui accumula la sofferenza di tutti, e nessuno potrebbe reggere la sofferenza di tutto un paese, e lui è l'unico. In altre parole, lui è nato con un corpo molto resistente, ma sta praticamente sfruttando la sua resistenza per il bene degli altri. Grande roba. Ma al tempo stesso l'altra riflessione è sul personaggio di Zoro, perché quando a Thriller Bark Kuma ha obbligato Zoro a immergersi nel dolore di Rufi, lo ha fatto perché altrimenti quel dolore sarebbe tornato a Rufi. E quindi da un lato era una prova, ma dall'altro era anche necessario. Quindi un Kuma sempre più... Cioè più viene riletto Kuma e più ti rendi conto che in realtà è buono, no? E riferimento poi alla Bibbia, adesso abbiamo capito anche il perché. Dopodiché, qui c'è però un'idea. Quanto questo Kuma è veramente così... Un personaggio legato al sacrificio? Sto pensando a quando mo' torniamo a Egghead e cosa farà. Perché è un personaggio che cammina con la Bibbia, e quindi tutta l'idea della redenzione, degli uomini. Sono venuto qui per espiare i vostri peccati, e mi li cucco io così. È morto per noi, no? Quella roba lì. E al tempo stesso però, anche l'immagine di Kuma che ha sulla maglia, se uno ci riflette bene, è un bersaglio. Quello è proprio il classico mirino di quando uno prende la mira, no? E sta per sparare a qualcuno. In altre parole, è un personaggio che dice, colpite me, mi immolo io per voi. Cazzarola che personaggio! E quindi ora che torniamo a Egghead, cosa farà? Cioè, ormai è quotato 1.01 la morte di Kuma per mano di Saturn, in un sacrificio bestiale da parte di tutti, con Bonnie che se lo piange. Voglio concludere con una breve riflessione su questo discorso del sacrificio, perché in teologia, sappiate che tantissime volte dal Medioevo, con Sant'Agostino, eccetera, si è posti questa domanda, ma perché Gesù l'ha fatto? Cioè, perché l'intero cristianesimo, anche per chi crede, ma anche per chi non crede, vuole affrontare il cristianesimo soltanto come un'idea in maniera laica, ma perché hanno creato la religione dove poi il Messia, anziché essere una specie di Superman che distrugge tutti, è un Messia che dice, ok, mi immolo io per voi. Cioè, qual è il concetto di base? Cioè, era necessario che Gesù morisse per salvare l'umanità? Per cosa? Per farci stare con i sensi di colpa? Cioè, qual è l'obiettivo del cristianesimo? E guardate, adesso la risposta certamente non la posso dare in pochi secondi, ma è una riflessione lunghissima e probabilmente quel tipo di risposta è la stessa che potremmo anche dare al personaggio di Kuma. Ripeto, eh, sempre con le dovute cose, non chiamatemi blasfemo, adesso andiamo soltanto facendo delle riflessioni generiche su un principio filosofico. Quindi, l'idea del sacrificio è un personaggio riesce ad incarnare esattamente ciò che vuole fare e ciò che è, anche come semplice allegoria all'interno del manga, come idea di sacrificio. Cioè, il mio personaggio è uno che si deve sacrificare. E diamine, Kuma lo stiamo vedendo veramente in pieno. Cioè, anche adesso che sta andando incontro alla morte, un po' come... ecco, stiamo sempre lì come Gesù, no? Che prima di essere messi in croce gli hanno messo la corona, cosa, l'hanno frustato. Ecco, più o meno quell'idea lì. Prima di arrivare alla morte devi pure subire tanti dolori, deve essere infilzato, deve arrivare là tutto scassato. Ecco, questa cosa. E poi, ultimo riferimento, questo bizzarro, gli offrono dei pesci e sapete benissimo che i pesci è il simbolo del cristianesimo. Pescatore di uomini come la cover. E qui l'abbiamo detta tutti. Adesso invece parliamo un attimino di questo rettiranno. Poca roba, perché altrimenti... Fermatemi! Non so come, ma ferma. Fatemi una telefona. Fermate. Allora, abbiamo il regno di Sorbet che viene diviso in due parti e puntualmente, tanto per cambiare, la parte del sud è quella sfigata. Ok, perfetto. Tanto per cambiare, o mai? Allora, eccoci qui. Vediamo cosa dice questa nuova legge, a quanto pare. Da oggi in poi i confini di Sorbet si frembranno al limite della provincia del nord. Dobbiamo eliminare questo cancro affinché il meglio di questa gloriosa nazione possa prosperare. Non saremo più appesantiti da tutti i vecchi bacucchi del sud. Parole chiave. Confini. Gloriosa. Vecchi bacucchi del sud. Vabbè, del sud è no. Comunque vecchi bacucchi. Poi, in più, ci aggiunge Ginni. Questo, ovviamente, il re è un burattino in mano ai draghi celesti. Questa è una politica gestita dall'alto. Allora, vediamo queste tre parole chiave perché sono così importanti in politica. Confini. È importante per uno stato avere i propri confini chiari. I Limes, Moraglia Cinese, tutto quello che volete, ma l'importante per una nazione è che abbia dei confini. Di qua stiamo noi, quelli buoni, di là state voi, quelli là così. Guardate che anche i greci, i mitici greci, erano molto razzisti. Cioè, per loro, tutte le popolazioni che non parlavano greco erano inferiori. Infatti, parlavano dicendo bar, 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 e li chiamavano barbari. Così nasce, no? La parola barbaro. Ma questa cosa va avanti da sempre, di qua e di là. Altra cosa, gloriosa nazione, in tantissime situazioni, soprattutto prima di iniziare delle guerre, i politici puntano allo spirito patriottico. È un'arma che si giocano sempre. No, una volta sì, una volta no. Sempre. Anche, l'ultima volta stavo sentendo una cosa di storia sul periodo di Rasputin, no? Quindi, quel periodo lì, quindi, la Russia si stava preparando anche lei alle guerre, eccetera, e proprio anche in quel caso ci si batteva, stiamo sentendo questa storia di Rasputin, si sbatteva sullo spirito patriottico per invogliare i russi ad andare in guerra. Ma l'hanno fatti i russi, lo fanno ovviamente gli americani, l'abbiamo fatto noi italiani, i tedeschi, sempre lo spirito patriottico si combatte per la padra, che rottura di padra. E infine, i vecchi bacucchi, cioè l'idea che se nella nostra nazione ci sono dei problemi, non è mica colpa nostra, politi, e certamente non è colpa vostra che siete i fantastici abitanti legittimi di questa terra. siamo tutti buoni qui. Se non fosse per loro, chi sono loro? Sciastare. Magari loro, anche molto meglio se sono anche facilmente identificabili, non so, dal colore della pelle, dalla carnagione, dai capelli, dagli occhi, da qualunque cosa voi vogliate, basta che siano facilmente identificabili. È incredibile, tre parole chiave e praticamente, ho da riassunto un po' il trucchettino di questi re. E poi la frase anche che dice Ginni, questo è un re sottomesso ai poteri forti. Ecco, questa però è l'unica parte che ovviamente poteri forti, no, perché politica gestita dall'alto, dai draghi celesti, un po' come dire che noi in Italia siamo sottomessi all'Europa che a sua volta è sottomessa agli stati, l'udienzi, eccetera, eccetera. E stiamo comunque parlando anche di questo fatto qui. È vero? È falso? Per me sì. Cioè, io non sono così idiota da non pensare che queste cose accadano. Però, però, c'è un grande però, una riflessione che volevo fare con tutti voi proprio a dimostrazione di chi è la vera colpa. Infatti, una domanda che spesso mi fanno, Strike, ma tu, a parte che in questo capitolo mi hanno anche chiesto in live se è ateo, se è credente, ormai, vedete che è bello, uno si deve anche un po' esporre in questi capitoli di One Piece e io sto godendo come un riccio, sappiatelo, per questi capitoli qui. Comunque, Strike, ma tu sei di destra o sei di sinistra? Allora, chi mi conosce lo sa io tendenzialmente sono un po' più di destra, però in realtà poi rimango sempre molto sospeso perché il mio spirito agnostico alla fine mi lascia sempre un po' sospeso, ma il mio essere di destra è molto di sinistra. Eh? Cosa significa? Ma vi spiego subito. Allora, partiamo da qui. Questa frase nel capitolo 1097 non ha alcuna importanza della legge che non è buona, non è buona. si abitueranno presto al loro status. In poco tempo, infatti, tutto questo non li disturberà più. Tutti vedranno quelli del sud per i parassiti che sono. Ora, io non so quanto tempo abbiamo dopo per parlare di certi concetti. Scusate, avevo saltato l'aforisma della settimana, scusate, me l'ho dimenticata sta cosa. Ultimamente lo salto, non so perché. La frase che abbiamo letto a proposito di leggi è questa. Sapete quando le leggi sono moltissime? Quando lo stato è corrottissimo. E sembra proprio di parlare del regno di Sorbet. e l'aveva detto Publio Cornelio Tacito. Ragazzi, 120 d.C. E questo qui già aveva capito tutto nel 120 d.C. Comunque, tornando a noi, quindi stavamo dicendo queste due frasi. Da un lato ci fa capire che il popolo effettivamente è manipolato. Perché? Dice, ma tu fai così, tanto quelli che so coglioni il popolo non se ne accorge. Però al tempo stesso tutti vedranno quelli del sud per i parassiti che sono. Beh, però questo significa che il popolo è manipolato ma in fondo si lascia anche manipolare perché all'interno del popolo stesso c'è già il germe del razzismo. Andiamo con calma. È vero, il popolo è manipolato. Lo ammetto, non c'è bisogno di essere complottista, terrapiattista, non lo so che cosa. È vero, lo ammetto ragazzi, ci sono i poteri forti, lo dico, tranquilli, lo so, ci sono le multinazionali che pensano solo i loro soldi, se ne fregono un cazzo di quella nostra vita, ci sfruttano, ci vedono solo come bancomat, fanno in modo di togliere fondi alla sanità e alla scuola così che possono gestire. Proprio stamattina parlavo con una collega della primaria, tra l'altro, di come veramente gli alunni stanno calando, cioè proprio la loro capacità di attenzione, eccetera, e perché? Cioè, colpa dei tablet, colpa di internet, colpa di tutte queste cose che ci sono, troppo benessere, non lo so, però è vero, il popolo è manipolato ed è sempre più succube, lo ammetto, tranquilli, lo ammetto, questa parte fa di me una sorta di uomo di sinistra rivoluzionario che vorrebbe veramente cambiare questo sistema dalle radici, un dragon dentro di me, tuttavia, secondo me il popolo è anche manipolabile, cioè nel senso che è anche colpa sua, capito? Questa è la differenza tra manipolato e manipolabile, manipolato da chi? Dai poteri forti, manipolabile però significa che è anche colpa tua, cioè tu popolo sei manipolabile e perché? Infatti bella sta frase, non sottovalutare mai il potere di tante stupide persone messe insieme, perché effettivamente le persone sono stupide, cioè sono manipolabili molte volte e questa cosa, secondo me, nel capitolo 1097 esce bene fuori, perché ragazzi, è il popolo che si fa manipolare, cioè, è anche colpa sua, come dire, poi quelli là vedrete come inizieranno a trattare male quelli del sud, e lì dipende dal popolo, perché se un popolo intelligente capisce al volo il magheggio e si oppone, io sono il primo a dire no, 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 io non punto il dito contro quelli del sud, punto il dito contro te che sei il re cattivo, come ha fatto Kuma, come hanno fatto Gini, che hanno capito immediatamente il maltorto, quindi c'è qualcosa in questo discorso, è vero che il popolo si adatta al peggio, facevamo in lava l'esempio della rana, che se metti la rana nella ventola bollente e le riscaldi, la rana muore facendosi riscaldare un po' alla volta, è una leggenda, non è vera sta cosa, però è altrettanto il vero che il popolo si sta anche adattando molto bene alle novità, questo preso da Geopop vedete come l'aspettativa di vita sta salendo, cioè in alcune zone del mondo mangiamo meglio, vi racconto sta storia, vi faccio fare due risate, quando ho comprato casa 15 anni fa, lo zio americano mi guardo e mi disse ah hai preso casa, c'hai anche l'acqua corrente in casa, beh zio, come minimo, cioè in che senso, perché lui da piccolo non aveva l'acqua corrente, aveva il pozzo, robe di Avellino dei primi del novecento, aveva il pozzo, quindi per lui avere una casa con l'acqua corrente è tanta roba, noi lo diamo per scontato, ma non è scontato in tante parti del mondo, anzi parliamo proprio dell'acqua, cioè, per cui l'acqua calda in casa, l'elettricità, internet, che adesso vediamo ovunque internet, pure dal cellulare, io sono nato negli anni novanta ero abituato che per vedere la puntata di Dragon Ball dovevo aspettare 24 ore e dovevo essere presente, lì davanti al televisore altrimenti mi perdevo la puntata, oggi no, oggi siamo abituati ad avere tutto subito, facciamo le maratone su Netflix, noi ci stiamo anche abituati, cioè come la rana che certamente ti abitui a quando ti tolgono lentamente delle cose, però ci abituiamo anche ad averle delle robe, non le vogliamo più mica perdere, attenzione, quindi il popolo io lo vedo sempre è un po' come da un lato vittima dall'altro colpevole, questo è quello che voglio dire e questo discorso, che adesso sembra più di destra, perché uno dice il popolo che è stupido, però al tempo stesso è un discorso che in realtà anche in questo caso dà molta forza a Dragon, perché Dragon si rende conto che il popolo il potere di cambiare il mondo ce l'ha, il problema è che deve essere guidato, deve essere spinto a fare questo, per cui parliamo di Dragon, grande personaggio, allora signore è arrivata la notizia ufficiale, ebbene sì, Dragon è un ex Marine, oh, domanda, allora, perché quindi ha mollato la Marina? Ovviamente innanzitutto il fatto che lui rientri in questo discorso, stiamo conoscendo il passato di Dragon sempre più, l'abbiamo rivisto che parlava con Vegapunk 33 anni fa, cioè quando lui aveva 33 anni, poi l'abbiamo rivisto adesso, stiamo scoprendo il passato di Dragon e quindi a cosa si legherà la storia della vita di Dragon? Beh, secondo me Dragon avrà incontrato Roger, non a caso in questo capitolo viene detto che l'inizio della grande era della pirateria, quindi praticamente la morte di Roger e la tragedia di Ohara mi hanno spinto ad abbracciare le armi. La tragedia di Ohara lo sapevamo, l'abbiamo visto nel flashback di Vegapunk, ma perché è l'inizio della grande era della pirateria? Cioè, come se, infatti noi sappiamo che lui era presente a Rogue Town, quindi c'è da capire il rapporto tra Dragon e Roger e dobbiamo ancora scoprirlo e lo scopriremo sicuramente. Poi un'altra cosa molto bella, anche il Jolly Roger chiamiamolo così, della nave che a me continua a sembrare un drago stilizzato, me ne ho preso uno lì giusto per dare un'immagine, cioè come io vedo quel simbolo, come un drago con le ali così, ma qualcuno mi diceva a me ricorda anche un coltello che trafiggi una corona, l'ho letta adesso su YouTube, non ho avuto il tempo di fare la foto, però in uno dei commenti della live, bella anche questa immagine. Ricordiamo che comunque One Piece utilizza molto icone stilizzate, anche la marina non è altro che un gabbiano, il simbolo della marina vedete c'ha le ali e poi quelle sono le zampe del gabbiano, quindi può essere che si rifà all'idea di un disegno stilizzato, ma soprattutto parliamo del suo passato in marina, perché Dragon ha lasciato i Marines? lui dice perché ho capito che lì non c'era giustizia, allora, ci sono tre possibilità almeno su come si potrebbe muovere poi il flashback di Dragon, per esempio passiamo alla prima idea, anche se non mi sembra per forza che sia questa, lui dice io sin da piccolo volevo fare qualcos'altro, però mio nonno mi ha costretto a fare il Marine, adesso che sono grande ho cambiato idea, quindi quando lui dice la giustizia non l'ho trovata nella Marine, perché lui già lo sapeva, lui voleva cercare la giustizia, il nonno l'ha spento a fare il Marine, poi è cresciuto e ha mollato, ma lui già da subito avrebbe voluto mollarla, ma non sta tanto bene, questa è la seconda opzione, io volevo fare il Marine, ma poi ho visto che i Marine mi hanno deluso e quindi ho cambiato tutto, questa seconda opzione che sembra più credibile porterebbe soprattutto ha un'idea, la terza opzione, il trauma, quello che in tanti stanno pensando chi più chi meno, l'idea che Dragon possa aver subito un trauma, quindi ovviamente qual è il primo trauma che si viene in mente? E' la morte della moglie che potrebbe la mamma di Rufy, quindi Crocodile, e quindi un'idea in cui praticamente Dragon ha visto morire qualcuno davanti ai propri occhi, adesso non per forza deve essere la moglie, ma a parte questo, però potrebbe anche essere ad esempio che lui ha avuto l'ordine di difendere i draghi celesti, quindi magari Dragon era arrivato anche al ruolo di ammiraglio, facciamo un esempio, e quindi poi a un certo punto quando ha dovuto difendere i draghi celesti ha mollato tutto. E vi dico la verità, mi piace più Dragon che Garp, anche se Garp è un personaggio che piace, è simpatico, è il nonno di Rufy, però dopo l'ultimo capitolo quando lui dice ma si a God Valley cazzo me frega quello che fanno, che te ne frega quello che fanno, stanno facendo la caccia agli uomini, stanno ammazzando pure i bambini che te ne frega, te ne stai lì a prendere il suo, c'è Roger, allora vado, ma vaffanco, cioè ma che cacchio, preferisco Dragon, cioè ma diecimila volte preferisco Dragon, ma senza scherzare, quindi mi piace molto come si sta sviluppando il personaggio, dopo di che vi do una breve indicazione di date, durante God Valley ne aveva 17 e durante il flashback di Oara quando incontra Vegapunk, lì c'è la storia dei libri, dei giganti, eccetera, ne aveva 33, ora ne ha 55, quindi vedete come lentamente ci stiamo avvicinando a conoscere un po' tutta la storia di Dragon, e infine parliamo di Connie, adesso poi ci scateniamo anche nell'angolo della posta su Connie, allora, Connie di sfondo, ma ovviamente parliamo di Bonnie, cioè Gigini, eccetera, eccetera, attenzione ragazzi, ebbene sì, ho fatto una riflessione, dove si trova esattamente questo flashback? Qui sta scritto che lei è l'armata capitano dell'Est, Est, io penso che Est si intenda del mare dell'Est, suppongo, cioè non lo so, però mettiamo caso che il mare dell'Est, quindi quali sono i regni che si trovano nell'ist blu, nel mare dell'Est, finora visti, che hanno ad esempio delle palme e delle case costruite più o meno così, li ho sbirciati un po' tutti, ci sarebbe il reino di Arlong, ci sarebbe ovviamente Goa dove è nato Rufy, Lockdown, abbiamo visto un po' di situazioni, ma mi è venuto in mente Cozia, capitolo 841, i Germa 66, o meglio, Double Six, stanno andando a Cozia, ed è lì che poi Sanji sbarca via, scende, poi andrà al Barati, eccetera, la storia di Sanji la sappiamo, infatti viene detto 14 anni fa, 14 anni fa, in un certo regno, mentre invece, qui dice, così trascorsero altri 8 anni e siamo arrivati praticamente a quel periodo lì, nel regno di Cozia, un regno che tra l'altro ha delle case più o meno simili a quelle che vediamo e delle palme, magari, che quei due piedi potrebbero essere i personaggi del Germa 66, si trovano buttati in quella situazione, voi dite, vabbè, scusa, ma che c'è il Germa 66 con quello? Beh, ma sai com'è? Germa 66 nella loro storia stavano cercando un regno, giusto? Volevano un regno, questo era il motivo per cui Giagi gironzolava per il mondo attaccando varie nazioni, voleva un regno, perché lui era un re, aveva il titolo ma non aveva il regno, ad esempio, Barba Nera ha il regno, ha Cinoso, ma non è il titolo, e Barba Nera cosa fa? Per avere quel che vuole avere ricatta il governo, no? Dando qualcosa in cambio, un premio importante, beh, questi si trovano un pezzo grosso dell'armata rivoluzionaria e magari potrebbero decidere di utilizzarlo per darlo al governo in modo da avere in cambio qualcosa, non lo so, adesso sto pensando a varie situazioni, perché è ovvio che molti pensano che quei piedi potrebbero essere dei marine, ma attenzione anche a queste storie alternative, siamo nel mar dell'est probabilmente, visto che Ginny è capitano dell'armata dell'est e si troverà probabilmente in list blu ed è l'unica isola che mi viene in mente tra quelle viste finora, altrimenti io ho da fare il solito colpaccio, invento una nuova isola e non se ne parla più. Ovviamente tra i personaggi dei marine che potrebbero, cioè comunque dei marine del governo, quello che volete voi, sembrano piedi eleganti, eccetera, ovviamente la CP, la CP è la prima che ti viene in mente perché, non lo so, altrimenti qualche ammiraglio è da vedere. Comunque, tornando a noi, infine, qual è il rapporto tra Bonnie e Ginny? Punto di domanda. Allora, vi dico la prima versione, quella lì che chiamerei semplice, Bonnie ha 24 anni, come è stato confermato da Oda, e quando lei aveva due anni, quindi quando accade il fattaccio che il kuma finisce in prigione e arrivano i rivoluzionari, Bonnie già era nata, aveva due anni, succede che i genitori entrano nell'armata rivoluzionaria e si chiedono e sta bambina beh, la lasciamo qui a Sorbet. Sembra ovvio. Ed è per questo il motivo per cui kuma ogni tanto tornava a trovare la figlia. E poi, quando Bonnie aveva dieci anni, la mamma fu rapita e lei era a Sorbet. Tutto qua. Infatti, mi facevano notare già alla fine della live che i ragazzi che portano i pesci lì in questo capitolo sono quelli che poi andranno nella ciuma di Bonnie. Quindi sono cresciuti assieme da bambini in quest'isola. Questa è la prima versione, è quella semplice. Ma voi della community di One Piece non vi accontentate di queste versioni? Allora, vediamone un'altra. Julie Bonny in realtà è morta. È morta perché è stata rapita, è stata uccisa, eccetera, eccetera. E allora Vegapunk magari con l'aiuto di Bucking ha deciso di clonare Ginny creando Bonnie. Quindi una sorta di semi-clonazione perché comunque sono un po' diverse Bonnie e Ginny hanno tante cose in comune ma sono diverse. Quindi una sorta di pseudo-clonazione ed è nata Bonnie che non è altro che la clonazione di Ginny. Ecco perché si trova in quella situazione lì. E tra l'altro ci potrebbe anche stare la saga della biotecnologia con l'inclonazione, eccetera, eccetera. È carina anche questa. C'è anche una terza ovviamente che in realtà Ginny fu salvata poi dopo il rapimento e fu solo dopo il rapimento 14 anni fa che praticamente poi decise di fare zun-zun con Kuma finalmente e Kuma glielo diede. Di solito è l'opposto ma in questo caso è Kuma che glielo diede. E quindi nacque poi questa bambina che è Bonnie. Ma giustamente allora Bonnie è piccolissima. Avrà boh non so 10 anni 11 anni 8 anni ma Bonnie grazie al potere del suo frutto si spaccia per una 24enne eccetera. Questa sarebbe la versione cioè andando a rileggere la prima e pensando a questa bello come la fantasy in One Piece macina tanto. Comunque chiudendo questo ovviamente cosa succederà? Beh ricordiamoci che in questo momento stiamo vedendo il flashback dalla testa di Julie Bonnie che è pronta per essere uccisa e quindi probabilmente rivedremo Dragon che arriverà a Egghead e si sacrifierà come piace a lui. Concludiamo quindi sulla saga di Egghead perché a breve penso che torniamo lì e siamo messi in questa situazione York non si conosce più che fine abbia fatto Nico Robin è pure sempre sparita Zora e Roblox ci stanno combattendo Kisaro è fuori gioco il robottone si è risvegliato ma al momento è stand by Satone e Mugiwara stanno lì al centro a fare casino i Seraphim stanno ancora dentro le bulle va a capire che stanno combinando Ticcio con Karibou è sbarcato ma non si sa e altre persone che potrebbero anche arrivare da fuori bel casino che c'è e quindi comunque detto ciò a breve torneremo e non dobbiamo fare altro che aspettare e godirci questo manga senza spoiler per tutti coloro che amano davvero questo manga per tutti gli altri poveracci mi fate allora le quote io avevo detto che il flashback sarebbe finito ma siamo ancora lì e allora vi dico che nel 1098 secondo me le quote sono queste termina il flashback basta direi che ci siamo qualche altra cosettina e poi a metà capitolo potremmo anche far chiudere questo flashback potremmo vedere la morte di Ginny l'ultimo grande sacrificio tipico di queste donne che muoiono facendo sacrifici ciao Sora mamma di Sanji ti saluto e poi onestamente vorrei vedere anche semplicemente in un flashback per la prima volta un dragon che combatte su dragon voglio dire anche una cosettina velocissima Strack ma visto che c'aveva le immagini sulla gamba che pose le tatuate e se dragon fosse un ibrido cioè nel senso lui è uno zono mitologico modello dragon secondo me l'avevo detto all'epoca in una pv rimango di questa opinione le scaglie del dragon le squame scusate del dragon lui secondo me se le disegna perché sono il suo simbolo il simbolo del suo frutto quando lui se le è tatuate in fronte può essere pure perché ha il potere del frutto vagamente attivo e che cosa se ne fa del potere del frutto attivo perché secondo me il dragon attraverso il vento riesce a percepire tutto il mondo circostante per cui quando lui scatena il vento e ha un po' attivo il potere infatti gli compaiono alcune squame di drago sul volto riesce a percepire la presenza degli altri come ispirazione per capirci come faceva pain nel paese della pioggia quella pioggia era artificiale la creava lui e lui notava se c'era un intruso nel paese perché interrompeva il flusso di pioggia una roba del genere sarebbe carino ma comunque il potere di dragon lo vedremo la più bella della settimana per me è questa doppia vignetta ma in realtà ne diventa una sola nel momento in cui le mani di kuma sembrano proseguire dalla vignetta veramente bella carica tanto questa pagina e non potevo non prendere qualcosa dalla mitica quarta pagina l'angolo della posta porca di quella 38 minuti allora io provo a leggere altrimenti vedremo che fare dobbiamo farci una live d'emergenza lunedì non lo so però non posso garantire nulla allora garp sama ciao strike è un peccato che kuma rifiuta per ora di sposare gini solo perché è ricercato e non vuole metterla in pericolo chissà cosa gli farà cambiare idea in futuro non so neanche se si sposeranno sull'emico misterioso è difficile dare idee ma se sono ribelli sembra logico che sia ovviamente il membro del governo e non un pirata non la marina i selezzi segreti tipo cp0 roba simile tecnicamente potrebbero farlo ma il fatto che era inatteso magari significa che non era nemmeno del cp bellissimo vedere anche kuma che usa l'urus su shock quando si incazza con l'esercito non credo sia proprio l'urus su shock quello comunque fantastico però è peccato che un essere così buono come kuma che prende pure il dolore della gente su di sé farà poi la fine che tutti sappiamo spero che rufi e tutti della giurma vengano a sapere queste cose si è giusto che si diffonda il verbo giusto per citare vediamo clown pazzurdo nell'ultima pagina del capitolo abbiamo la conferma che bonnie non ha veramente 24 ha proprio la conferma la conferma addirittura questa è che abbiamo una gini di 14 anni prima degli eventi senza che abbia avuto ancora bonnie clown pazzurdo ricordiamo era presente in tutte cioè clown pazzurdo non è che ha visto ha letto soltanto il capitolo 1097 di one pistol è stato 24 ore su 24 assieme a giugni e bonnie tutti i santi giorni 24 ore su 24 a controllare che non facessero zoom zoom attenzione poi quindi a meno che non abbia avuto off screen ma no ma figura lei può essere nata solo dopo essere stata clonata giusto ricordiamo che abbiamo visto kuma adulto con il braccio bonnie neonata cosa che non può essere accaduto off screen perché l'età di kuma non combacia con quella questo però è vero bravo nelle ultime sbs un fan ha chiesto a Oda di disegnare him con il labbro superiore che facesse da corone e l'ha disegnato mostrandoci il volto ipotetico bellissimo bellissimo soprattutto quando Oda riesce a percolare tutti così grande Oda ti adoro comunque tante domande e qualche considerazione Lucky 7 ciao strike sono nuova allora bisogna leggere tutta per il potere della patata sediamo un pochettino ma ti seguo da un paio di anni ormai grazie mille sei grande adoro il tuo modo io adoro tutte le donne come te dimmi tutto Lucky 7 comunque riguardo al capitolo ma un po' tutto il flash o becco in generale ci sta offrendo molti spunti e come al solito aggiunge altre domande vediamone un po' ormai mi sembra applausibile ipotizzare che Bonnie possa essere un clone di Ginny quindi anche tu nel clone no l'altro non diceva se fosse davvero la figlia di Kuma non dovrebbe avere anche lei il sangue dei bucanieri e per questo venire perseguitata dal governo anche se fosse stata protetta da Kuma e da rivoluzionari per un periodo sappiamo che ad un certo punto è passata per le mani di Akaino si dopo Marineford perché allora non è stata condotta anche lei a Marigio e fatta schiava non dovrebbe mostrare le stesse caratteristiche fisiche di uno grande grosso come Kuma poi d'altra parte se fosse veramente un clone magari potrebbe essere stato il primo prototipo di Seraphim creato da Vegapunk magari Kuma si è sacrificato e accettato di diventare un'arma del governo proprio per risparmiare a Bonnie questa sorte poi forse è successo anche molto prima più o meno dove siamo fermi ora nella timeline con il flashback nel prossimo capitolo vedremo Ginny catturata dalla marina e Kuma scendere a patti col governo per liberarla e quindi entrare nella flotta dei sette comunque è un po' strano e il loro rapporto sicuramente avrebbe visto sotto una luce diversa se fosse così magari Bonnie è davvero figlia di Ginny ma non di Kuma e lo decide di crescere lo stesso come se fosse figlia sua bella anche questa molto molto bella mi piace questa qui comunque a parte questo la domanda è più di tutte che vorrei porti ma un personaggio come Kuma secondo te per come Oda ce l'ha presentato finora è capace di vendetta? mi spiego abbiamo visto nel flashback meraviglioso estruggente come lui si sacrifica ogni settimana estraendo il dolore dagli abitanti del villaggio facendo senecario a tal proposito ci è stata data anche un'ulteriore spiegazione sul funzionamento del frutto ma a questo punto quanto sarebbe figo se adesso raggiungesse Egghead portandosi dietro il dolore di migliaia di persone che hanno sofferto a casa del governo mondiale e lo scagliasse contro Saturn bellissimo sarebbe una figata assurda una sorta di giustizia poetica la redenzione però non mi sembra una cosa che uno come Kuma Kuma farebbe neanche al suo peggior nemico tu che ne pensi beh a me ricorda molto John Coffey di Il Miglio Verde come diceva ma comunque ultimissimo punto ma chiamare il pacifista delle armi basate su di lui dopo tutto quello che stiamo apprendendo dal flashback non ti suona come una presa per il culo? sì ma la sai ma la pace è una cosa relativa cioè la pace può essere anche semplicemente uccidere tutti gli avversari in modo da mantenere la pace nel governo non nel mondo quindi è molto relativo anche questo del tipo oltre il danno la beffa Kuma ha sui suoi poteri solo a fin di bene per guarire le persone e l'abbiamo visto combattere solo se strettamente necessario e poi ci sono i pacifisti che sono armi letali comunque vabbè che bastardata so che probabilmente non sarà così ma se c'è un personaggio che si merita di vedere sti bastardi andare a picco e vedere Rufi portare l'alba del nuovo mondo è proprio Kuma hai perfettamente ragione la chisette diciamo sul discorso della cronazione io la prendo sempre con le pinze però vabbè ciao Strike in sto capitolo viene detto ufficialmente che Ginny 30 anni fa ne aveva 21 quindi non può essere Bonnie dato che Bonnie ne ha ufficialmente 24 la saga dei cloni è finita con la storia dei Germa e la flotta dei sette dubito che Bonnie sia clonata da Ginny sarebbe una scelta di merda da parte di Oda mi sta facendo venire in mente che in realtà a questo punto la clonazione è ancora più probabile se quelli fossero davvero il Germa 66 oh mio dio però se magari il governo ha rapito Ginny magari è possibile che abbiano preso dati da lei per clonarla quindi per me Bonnie e Ginny non sono la stessa persona ma occhio a Kuma non vuole fare nulla con Ginny a sto punto penso che Bonnie è stata solo trovata da Kuma e adottata effettivamente mi sta dando ancora più forza l'idea che quello era proprio il regno di Cozzia comunque tofo tofo no mici o strike ti pongo questo ragionamento Kuma non si concede a Ginny si arruolano a rivoluzionare diventano comandanti Ginny viene rapita Kuma viene a sapere che il governo ha rapito Ginny Kuma va a liberarla ma Ginny viene dichiarata morta in verità non lo è il governo fa un patto con Kuma gli dicono riportiamo in vita Ginny grazie a Vegapunk Vegapunk crea Bonnie tramite inseminazione artificiale che roba in un manga sciorre nell'inseminazione artificiale nasce Ginny clone Kuma la battezza con il nome di Bonnie Kuma viene usato dal governo e d'ora in poi in cambio gli lasciano crescere Bonnie Kuma diventa sempre più robotico si toglie di rivoluzionare e nasce la rotta dei sette ricorda a fine guerra di Maniford Gaino recupera Bonnie e dice per fortuna che ti ho ripresa come se a Gaiuno sa che per tenere in sacco orso serve anche tenere Bonnie in colume Ginny riesce a fuggire intanto dal governo e torna a Sorbet dove il popolo la nomina Regina Ginny cambia nome per la sua incolumità e per Kuma e Bonnie da qua la storia va avanti bellissimo avete una fantasia pazzesca ragazzi un bel capitolo dice Miruko uno dei capitoli più belli in poche pagine mi ha fatto emozionare mi ha fatto affezionare sui personaggi e sul finale c'è anche il rapimento di Ginny mi ha lasciato di sasso per poi realizzare che è un flashback era prevedibile che andassi in questa direzione ma leggendo me ne ero dimenticato capolavoro altro che quel pagliaccio di G-back e soci e l'hype da spoiler grand diciamo ti piace molto più questo che le hype alla cacchio di cane con G- Mad Mario ha scritto un libro ciao stracchi il capitolo è molto bello orso è palesamente una reinterpretazione di Gesù Cristo ma rimanendo nel contesto io l'ho accosto a un personaggio toni iconico Toki il mio personaggio preferito di Ken che ovviamente non si poteva non citare quattro questioni uno non sarebbe interessante che la domanda che Zoro voleva fare a Vegapunk fosse proprio un chiarimento su quanto è successo a Kuma Zoro sa che è stato punk a modificarlo però mi credi questa domanda gliela avrei fatta fare più a Franky che a Zoro a sto punto comunque due vedo tanti che ritengono che Bonny sono clone di Ginny dal momento che nel capitolo non assistiamo alla sua nascita ma non potrebbe esserci la possibilità che invece Ginny e Orso avessero avuto in segreto questa figlia e una volta scoperto il governo abbia mandato qualcuno a rapere la figlia di Orso ci si chiede a chi fosse affidata visto che loro due erano diventati rivoluzionari ma i due tizi che avevano bullizzato Kuma e poi devono diventati grandi amici suoi potrebbero essere appunto utilizzati per questo sì che poi diventano membri della ciuma di Bonny così sembra poi tre la figura misteriosa che ravisce Ginny è una delle cose più improbabili mai pensate ma io voglio giocarmele e dico Smoker da Rocktown non sappiamo che Dragon e Smoker si conoscono e sarebbe bello se Oda desse un contesto a questa conoscenza avevo pensato che Dragon in Marina potesse essere stato il mentore di Smoker visto che ha quasi vent'anni in più le tempistiche ci dicono che non è possibile perché Dragon ha fondato la rivoluzione ventiquattro anni fa con l'esecuzione di Roger e Smoker all'epoca ne aveva dodici infatti cioè si stai dando la soluzione da solo e quindi non poteva essere in Marina ma se invece venisse fuori che Smoker come Aokiji era stato istruito da Garp e che come una delle sue prime missioni fosse riuscito a sorprendere e catturare uno dei comandanti della rivoluzione questo non avrebbe indotto Dragon a interessarsi a lui ricordiamoci che il fumoso è soprannominato il cacciatore bianco vabbè è carina anche questa e infine la 4 la più drammaticamente bella della settimana per me è l'immagine che ha l'ego ah dei rivoluzionari che soprattutto la faccia di questo qui vero un po' spaventato che non sa come muoversi perché mi è piaciuto che rappresenta qualcosa di decisamente tragico questa vignetta mi ha colpito dal momento che mi è parsa non una vignetta di fumetto ma una tipica fotografia di guerra si che rappresenta come in realtà gli autori della guerra purtroppo sono anche delle persone che la guerra la soffrono si trovano in guerra ma come dire non è che sono felici di fare la guerra questa è l'idea no Saturn padre padre c'è un strike lo so un risvolto del genere Garling o H.I. non rapiscono Gini e la portano da Saturn facendo recapitare un messaggio a Kuma lui lo raggiunge Saturn gli dice te l'avevo detto che chi nasce schiavo muore schiavo e magari davanti a Kuma no vabbè dai è un manga shonen ti prego non arriviamo a queste idee spero di no spero di no io non voglio vedere robe del genere neanche nei manga quindi non riesco più ad aprire la cosa no no non parliamo di stupor se ste parole qui non si possono neanche dire sui comunque ok è un'idea anche questa infine Antares ciao strike capitolo molto triste ma stupendo vorrei proporre una mia idea sulla questione di Gini Bonny nel capitolo non abbiamo visto Bonny da nessuna parte e a meno di dietro le quinte particolari la piratessa non può avere i 24 anni indicate nell'SBS però posso dire una roba allora se è così non dobbiamo più leggere l'SBS cioè se ho da l'SBS di stronzate allora è inutile leggerle secondo me comunque vabbè cioè sarebbe grave se fosse detto una bugia in una SBS dal capitolo appare molto difficile che Kuma ha copulato con Gini per paura di trasmettere la maledizione e allora visti gli ottimi rapporti con Vegapunk la situazione potrebbe essere questa 1 Gini è catturata dal governo ridotto in fin di vita 2 Kuma non riesce a salvarla ma grazie a Vegapunk a sangue di Gini riesce a creare una figlia di laboratorio senza la maledizione di un baccania 3 Vegapunk in onore di Gini crea tre suoi satelliti esteticamente identici a lei 4 Kuma accetta di diventare cyborg per perdere le emozioni che lo stavano uccidendo dopo aver visto Gini morente 5 Bonnie è una bambina e si atteggia ad adulta grazie per il suo frutto grazie al suo frutto un po' come fa Merlin in Seven Deadly Sins giusto 6 Vegapunk dice che il primo clone è uscito bene solo perché considera Bonnie un fallimento perché? perché ha i capelli rosa come ha fatto Momo che rilasserebbe l'idea del rosa a suo tempo col frutto sbagliato da Vegapunk allora tutto tutto veramente molto interessante siete geniali anche nei vostri messaggi di posta io spero sempre che One Piece segua una linea più semplice più così però anche la fantasia non guasta mai in queste situazioni vi ringrazio moltissimo per sta roba ricordiamoci come dice Crocodile che lui è la mamma di Rufy io vi rimando per chi vuole domani per la live su Twitch per Fiorentina Juve alle 20.45 domani sera sull'altra piattaforma detto ciò invece vi auguro a tutti un bellissimo weekend mi raccomando fate i bravi scusate la lunghezza del video però l'angolo della posta lo mettiamo qui perché non c'è pausa e quindi un abbraccione mi raccomando fate i bravi buon weekend ciao ciao